Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campana per non perdere nessun video. Un altro insegnante le terrà al mio posto. Il suo nome è Maestra Sara. È molto gentile. Vi piacerà. Ora devo andare. Buongiorno, cari studenti. Sono la Maestra Sara. Sono la supplente del Maestro Luigi. Sono la supplente del Maestro Luigi. Oggi farete lezione con me. Oggi farete lezione con me. Prendo il lavoro molto seriamente. Avete molto da imparare. Avete molto da imparare. È l'unico modo per avere la possibilità di ottenere un buon lavoro. È l'unico modo per avere la possibilità di ottenere un buon lavoro. Per questo motivo oggi faremo una verifica. Per questo motivo oggi faremo una verifica. Sì, una verifica su ciò che avete fatto durante l'ultima ora. Sì, una verifica su ciò che avete fatto durante l'ultima ora. Ma io non c'ero. Ma io non c'ero. Hai ripassato il materiale? Hai ripassato il materiale? No, non ancora. No, non ancora. Devi farlo. Devi farlo. Lo farò subito. Lo farò subito. Va bene, puoi farlo. Va bene, puoi farlo. Faremo comunque la verifica adesso. Faremo comunque la verifica adesso. Per favore, non lo faccia. Non posso prendere altri due. Per favore, non lo faccia. Non posso prendere altri due. Avete 30 minuti. Il tempo inizia ora. Avete 30 minuti. Il tempo inizia ora. 30 minuti dopo. 30 minuti dopo. Il tempo è scaduto. Consegnate subito il vostro compito. Il tempo è scaduto. Consegnate subito il vostro compito. Ecco il mio compito, maestra Sara. Ecco il mio compito, maestra Sara. Ma non hai scritto nulla. Ma non hai scritto nulla. L'ultima ora non c'ero. Non potevo scrivere nulla. L'ultima ora non c'ero. Non potevo scrivere nulla. Allora devo darti un 2. Allora devo darti un 2. Cosa un 2, non di nuovo. Cosa un 2, non di nuovo. Cosa c'è che non va, Lisa? Perché stai piangendo? Oggi ho preso un 2 a scuola. Oggi ho preso un 2 a scuola. Un altro 2. Come è successo? Un altro 2. Come è successo? Abbiamo fatto una verifica a sorpresa. Abbiamo fatto una verifica a sorpresa. L'ultima ora non c'ero. E il maestro Luigi ti ha dato comunque un 2. E il maestro Luigi ti ha dato comunque un 2. No, era la maestra Sara. No, era la maestra Sara. Le parlerò. Le parlerò. Sì, salve, sono la maestra Sara. Sì, salve, sono la maestra Sara. Salve, maestra Sara, sono il signor Petrucci. Salve, maestra Sara, sono il signor Petrucci. Sono il padre di Lisa. Sono il padre di Lisa. Come posso aiutarla, signor Petrucci? Come posso aiutarla, signor Petrucci? Lisa mi ha raccontato cosa è successo oggi. Lisa mi ha raccontato cosa è successo oggi. Le ha dato un 2. Le ha dato un 2. Se lo merita. Se lo merita. Vorrei parlarle personalmente. Vorrei parlarle personalmente. Può venire nel mio ufficio. Può venire nel mio ufficio. Sarò lì tra dieci minuti. Sarò lì tra dieci minuti. Basta così. Basta così. Parlerò seriamente con la maestra Sara. Parlerò seriamente con la maestra Sara. Lisa non può prendere un altro 2. Lisa non può prendere un altro 2. Questa è la scuola di Lisa. Questa è la scuola di Lisa. Andrò nell'ufficio della maestra Sara. Andrò nell'ufficio della maestra Sara. Andrò dritto al punto. Andrò dritto al punto. Con piacere. Con piacere. Perché ha appena dato un 2 all'ISA? Perché ha appena dato un 2 all'ISA? Perché ha consegnato il compito in bianco. Perché ha consegnato il compito in bianco. L'ultima ora non era presente. L'ultima ora non era presente. Non mi interessa. Deve ripassare il materiale. Non mi interessa. Deve ripassare il materiale. Non crede che sia un po' troppo severa? Non crede che sia un po' troppo severa? Solo così Lisa imparerà la disciplina. Lei è troppo docile. Questo non è un bene per Lisa. Questo non è un bene per l'ISA. Se non insegnate voi la disciplina, lo farò io. Se non insegnate voi la disciplina, lo farò io. Perché il maestro Luigi se n'è andato? A. È il suo compleanno. B. Ha un nuovo lavoro. C. Ha un appuntamento. Scrivi un commento. Perché il maestro Luigi se n'è andato? A. È il suo compleanno. B. Ha un nuovo lavoro. C. Ha un appuntamento. Scrivi un commento.